Io parto da un concetto, ragazzi, che alcuni si diranno chissà che cacchio, è impossibile, ma dove vivi? Si può fare benissimo. Tu dovresti arrivare alla soglia dei 50-55 anni con un patrimonio che viaggia dal milione al milione e mezzo. Con patrimonio cosa si intende? I tuoi soldi in asset. I tuoi soldi in asset. Per cui prendi i tuoi asset, gli togli i debiti e devi avere qualcosa di sopra del milione, milione e mezzo dentro 50-50 anni. Perché questo conto? Semplicemente perché quella cosa, mediamente, ragazzi, un investimento può rendere dal 6 al 10%. Di più è rischioso. Dal 6 al 10%. Io ho degli affitti a stanze che mi rendono il 10%. Ci sono gli altri investimenti che mi rendono il 6%. La borsa americana nel lungo rende il 10%. Ok?